Nuovo ruolo per lei, la Canne Lega Pro, avete già iniziato però a lavorare, sono cinque giorni a Sportiglia, però in realtà il lavoro dura tutto l'anno. Beh sì, abbiamo iniziato la nostra stagione con il raduno precampionato, quello consueto insomma, fine di luglio, abbiamo fatto cinque giorni, ma il lavoro continuo, proprio oggi mi recherò a Roma, dove i ragazzi stanno già arrivando per il raduno precampionato, che speriamo inizi al più presto. Senta, se la novità in Serie A e in Serie B è l'occhio di Falco, la Lega Pro su cosa si deve concentrare a livello arbitrario? Noi ci basiamo ancora sulle risorse umane perché non ci sono questi mezzi tecnologici, ma gli arbitri e gli assistenti sono insomma preparati per rispondere a queste esigenze, d'altronde fino a ieri insomma anche in queste categorie maggiori abbiamo risolto senza la tecnologia. Noi continueremo a non avvalerci di questa tecnologia e vedremo nel futuro cosa accadrà. Si può dire che comunque un'altra delle battaglie da parte della classe arbitrale insieme ovviamente alla Lega Pro è quella di debellare la violenza sui campi, perché insomma... Beh la violenza assolutamente... Beh la violenza nei confronti degli arbitri è una battaglia che l'AIA sta conducendo da un po' di tempo e di questo siamo fermamente convinti, ma non deve essere convinta solo l'AIA. Cioè la violenza, è chiaro che la violenza nei confronti di un ragazzo, di un uomo va condannata in qualsiasi campo e se poi noi ci mettiamo ad alzare le mani nei confronti di una persona che va lì per far rispettare le regole vedete che il cerchio è chiuso, ma è chiuso in maniera sbagliata. Assolutamente siamo concordi da questo punto di vista. Per lei che cosa significa rivestire questo ruolo succedendo a Rosetti? Per me, allora, subentrare al posto di Roberto è una grossa responsabilità, ma il ruolo in sé impone un grande senso di responsabilità. Questa è una categoria importante a livello delle squadre, ma anche a livello degli arbitri. Gli arbitri sono la soglia del massimo, che è la Serie A e la Serie B, quindi per me c'è una grossissima responsabilità. La passione, l'impegno è tanto, quindi sicuramente gli arbitri, non io, perché io rappresento solo la loro guida, ma quelli che vanno in campo sono loro. Gli arbitri e gli assistenti sicuramente sono pronti per fare bene.